Buon pomeriggio a tutti, siamo qui all'incontro di Dampir e direi che io sono Giorgio Giustredi, abbiamo Alex Dante, il nostro fantastico operatore e regista, tutti quei video che vedete della serie Giovanna e l'editore sono quasi tutti opera tua, ci abbiamo Fabio Bartolini, Paolo Barbieri, grande illustratore ma anche disegnatore di Dampir come Fabio e Fabrizio Longo e Vincenzo Sarno che è responsabile dell'ufficio sviluppo Bonelli e produttore del film di Dampir. Ora siccome direte, Dampir è un personaggio di Boselli e Colombo, dove sono Boselli e Colombo? Allora non ci possono essere qui ma aleggiano sullo schermo. Salve, sono Mauro Boselli, creatore con Maurizio Colombo e Dampir come saprete e come altrettanto avete visto non sono lì sul palco di Luca, c'è Giustredi, ci sono alcuni disegnatori, io non ci sono però vi volevo salutare e vi saluto dalla magica redazione di Buonarroti, vedete i magnifici quadri fantastici che ci sono in redazione che mi hanno ispirato anche per alcune storie di Dampir. Vi voglio ricordare che Dampir in questo momento si avvicina al numero 300, Giustredi vi dirà qualcosa di più, ma verso il numero 300 i Dampir del passato, Tagliasene e il Dampir del presente che conoscete ancora meglio, cioè Arland Draca, si uniranno insieme in una fantastica ricerca sopranaturale e misteriosa. Non dico altro, il mistero fa parte della nostra serie, non vi resta che avere delle aspettative che spero saranno ripagate dalle nostre storie, mi auguro. E quindi sono qui a casa a scrivere in questo momento, in ufficio come vedete sto lavorando, mentre voi vi divertite vi auguro quindi buon divertimento in questa magnifica manifestazione a cui devo dire, mi dispiace non esserci quest'anno, ma io devo tutto il mio rispetto e la mia amicizia. Ok, vi saluto, grazie. Ecco l'esaustivo Boselli e ora abbiamo il fulminio Colombo, poi parliamo di tutti e due e del lavoro che stanno facendo tutti e due su Dampir. Un saluto a tutti gli amici di Dampir e ci vediamo l'anno prossimo con la mia nuova storia. Dopo diremo che quest'anno tornerete a vedere Colombo sulle pagine di Dampir, quindi è una piccola chicca che facciamo dopo. Io ora farei partire il trailer, così parliamo del film e poi dopo libero Paolo Barbieri che l'ho rapito per raccontare una cosa. Se un maestro delle notte si accoppia con una donna non vampiro, lei darà alla luce un Dampir. Chi può aver fatto tutto questo? È stato il diavolo! Dovete chiamare il Dampir! Ho sempre avuto incubi, ma ora sembrano molto più reali. Come ricordi che provano a riemergere. I maestri della notte uccidono quelli come te alla nascita, sei troppo pericoloso. E ora Gorka sa che esisti e farà di tutto per eliminarti. Portami da Gorka. Sì, portalo qui nel mio mattatoio. Chi sei tu esattamente? Come ci si sente a sapere che la vita ti sta abbandonando? Ascolta quello che sei. Vado in giro con un supereroe, eh? O forse con un mostro. Ecco. Magicamente come un maestro della notte sono comparso di qua accanto a Vincenzo. Appunto perché ora Vincenzo ci racconta. Se l'avete già visto c'è scritto Sky Cinema. E se aguzzate ancora di più la vista come un vero vampiro potete vedere là vicino al computer di Alex un cofanetto e un DVD che sono quelli del film che sono in vendita allo stand Bonelli che è giustamente qua dietro. È proprio qui dietro in piazza Anterminelli. Vincenzo, raccontaci qualcosa. Salve a tutti. Per me è un grandissimo onore essere ospite a questo panel perché prima di essere un dipendente della Bonelli, prima di essere il produttore, uno dei produttori del film di Dampir, sono un lettore e per tantissimi anni sono stato seduto al vostro posto a seguire gli incontri che raccontavano la nuova annata a fumetti di uno dei miei personaggi preferiti. La produzione di Dampir è stata una produzione emozionante perché è stato il primo film prodotto direttamente dalla Bonelli non è stato affidato, non è stato dato nelle mani di qualcun altro, ma è stato portato avanti dalla Bonelli stessa insieme a due validi comproduttori come Eagle Picture e Brandon Box per riuscire a regalare a voi in video una parte delle emozioni che Boselli, Colombo, l'epoca Mario ma poi una storia infinita di disegnatori vi regalo ogni mese. Per me poi essere qui è particolarmente emozionante perché a darmi la parola è stato Giorgio Giusfredi che rappresenta l'eredità di Boselli e Colombo diventato lo sceneggiatore di Dampir. Se ci fossero Boselli e Colombo direbbero che eredità grama, che eredità banale. Io sono come diciamo un fratellino di Dampir perché Boselli e Colombo hanno creato Dampir che gli è venuto bene, poi hanno quasi creato me che insomma sono un po' un po' abortito insomma, però ci sono io insomma e questo tocca. Comunque grazie Vincenzo. La verità assolutamente e ci abbiamo appunto il DVD e anche su Sky. Ecco sì, non so se siete riusciti a vederlo un anno fa al cinema, l'abbiamo presentato proprio qui a Lucca per la prima volta in un emozionantissimo red carpet al cui solo pensiero mi torna la pelle d'oca per quella magica serata e abbiamo atteso tanto per trovare la piattaforma giusta per celebrare Dampir, per mostrare Dampir. La piattaforma giusta è stata Sky e infatti da qualche giorno potete trovare sulla piattaforma Sky e sulla piattaforma di abbonamento digitale Now la possibilità di vedere questo film, la possibilità di vederlo anche in lingua originale e un invito che vi faccio perché i doppiatori sono stati bravissimi ma il talento dei tre attori, anzi dei quattro attori protagonisti vi arriverà addosso in una maniera incredibile ascoltandolo in lingua originale con i sottotitoli. In più se siete curiosi, se siete collezionisti, se avete voglia di tenere con voi Dampir per sempre, come io mi auguro voi facciate, l'invito è acquistare anche un video, il Blu-ray o il DVD e ve lo dico non per darvi un invito all'acquisto ma per darvi un'esperienza in più di Dampir, poterlo vivere facendo in modo che quelle tavole a fumetti diventino parte del vostro immaginario anche sullo schermo di casa vostra. Grazie Vincenzo. Ti chiedo l'ultima cosa poi passo a Paolo Barbieri. Siccome hai detto questa cosa del doppiaggio dei tre protagonisti, diciamo che poi anche Gorka non è protagonista ma c'è anche Draca volendo, io l'ho conosciuti brevemente e sai benissimo che sono stati come squisiti loro, non solo squisiti ma mi hanno sorpreso per la loro passione verso il personaggio e penso che si veda nel film questo quanto ci credevano nel personaggio e si è visto anche Mauro Boseli l'ha incontrati qui a Lucca, Maurizio no però anche loro gli dicevano, Maio li ha incontrati, Stuart Martin gli diceva ho messo la sigaretta, mi mettevo la sigaretta come in questo disegno qua, come vignetta di pagina, insomma erano bravissimi. Te invece che ci hai passato molto più tempo, praticamente sempre durante la produzione mi confermi questa cosa che loro erano come posso dire gasati, di Dampier, Stuart, Curiac fumava apposta, non fumava prima. C'è un elemento che caratterizza la narrazione di Dampier, almeno per me, è che un fumetto fatto di emozioni, prima ancora che di personaggi e di trame, se voi leggete Dampier ogni mese venite inondati da un'emozione, venite trasportati su un mondo che non è il vostro per un'ora, durante la lettura perdete il contatto con il reale ed è quello che è accaduto ai tre protagonisti. i tre protagonisti erano con me sul set ogni singolo giorno con le tavole del fumetto, con le vignette del fumetto in mano, a provare a capire come replicare un'emozione. I primi due albi di Dampier sono qualcosa che secondo me non potete dimenticare se l'avete letto, per qualcosa che è arrivato nelle edicole italiane ed è stato dirompente, è stato un, gli americani direbbero una milestone, una pietra migliare su cui costruire, su cui segnare, su cui dire ok fumetto italiano, c'è stato un momento in cui esistevi e adesso avrai qualcosa di differente, avrai Dampier, la storia di un magnifico perdente che sceglie di andare oltre i propri limiti, come farebbe ognuno di noi, per un solo motivo, perché giusto farlo è il bene, deve comunque vincere sul male. Grazie Vincenzo. Poi i primi due numeri di Dampier è una storia di guerra e ci ricordano anche che le guerre sono tutte sbagliate e come si vede lì non ci sono fazioni, sono solo i cattivi, sono i vampiri insomma e insomma in questo momentaccio è un fumetto anche che insomma affronta dei temi abbastanza importanti. Grazie Vincenzo, parasserei la parola a Paolo, Paolo Barbieri che è un famosissimo illustratore, due anni fa Paolo avevi fatto il poster per Luca Comics 2021, 2021, quello con Dante, bellissimo, insomma è un illustratore famoso, non sto qui a presentarlo, ma è un illustratore che lavora anche per la serie giovane editore, ci sono i suoi bellissimi libri allo stand, no? Che ci abbiamo ora? L'Inferno, poi che ci abbiamo? L'Inferno, l'Apocalisse, Favole degli Dei e Fiabba Immortale. Ecco, quattro splendidi volumi e vi direte come mai è un illustratore così di talento e di fama mondiale qui all'incontro di Dampier perché se Alex mi favorisce anche su questo bel libro che anche questo si trova in vendita allo stand che è questo qui, che vedete qua, che è un libro che si chiama La Cineteca del Mistero, il secondo capitolo di due color che abbiamo fatto, la prima si chiama La Biblioteca dell'orrore e la seconda della Cineteca del Mistero, cioè la prima storia completamente a fumetti di Paolo Barbieri. Come ti sei trovato Paolo? Con Dampier e con Boselli e con questa storia che parla di Méliès, no? Anzi Méliès si dice in francese, non ci sbagliamo, sì. Mi piace raccontare anche come è nata, era qualche anno che un pochino ci inseguevamo e era nata in ufficio, in redazione, perché parlavo con il Bosso, ma sai si potrebbe fare qualcosa riferito anche al cinema, non so, lui vedeva la Torre Eiffel, io sai Méliès è anche il padre del cinema, anche degli effetti speciali soprattutto, è nata veramente credo in cinque minuti, almeno il barlume e credo che come tutte le storie l'idea potente nasce davvero in un batter d'occhio, se ci pensiamo anche le canzoni più famose, se voi andate a scovare la nascita dei grandi gruppi come le Zeppelin e tanti altri, spesso leggerete che sono nate in momenti veramente racchiusi in pochi minuti e stavo andando in treno, ero in bagno, stavo cucinando, perché proprio è quel lampo, no? Poi la differenza tra illustrazione e fumetto, io credo che l'importante sia narrare una storia, chiaramente un libro illustrato cambia rispetto a un fumetto, il fumetto è sequenziale, il libro illustrato racconta dei momenti, di quel passaggio, di quel racconto, ma se la storia regge noi possiamo inserire vampiri, mostri, astronavi, killer, ambientarlo nel passato, all'età della pietra, nel futuro, ma se la storia funziona e trasmette, come dicevi prima, emotività, emozione, come diceva anche Vincenzo, i grandi temi, no? Io mi ricordo quando al cinema era uscito Titanic, poco prima tutti lo davano come un grandissimo flop, a parte per l'aumento dei costi, ma cosa volete che si racconti in quel film lì? Si sa che il Titanic affonda, invece James Cameron ha stupito tutti, perché è la storia, la narrazione. L'amore. Esatto. Certo Paolo, grazie. Non solo, poi c'è evidentemente, per quanto mi riguarda, è un esperimento più che riuscito, tanto che siamo molto andaffarati, ma ci piacerebbe replicarlo in qualche maniera e vedremo un futuro, ma appunto, mentre nell'illustrazione sei te che hai tutto in pugno, questa narrazione di cui parli, qui hai dovuto lavorare col Boss, che insomma è uno dei nostri sceneggiatori più importanti, anche perché è lo sceneggiatore principale di Tex, oltre che il creatore con Colombo di Dampil. E appunto, ti trovi davanti a una sceneggiatura, a delle cose, e te mi ricordo che mi dicevi, eh non lo so come sarà, no? Invece alla fine ti è riuscito benissimo, alla perfezione, no? Le tue matite, diciamo, che hai fatto, sono state quasi perfette, c'è stato solo forse una striscia dove... Uno o due che avevo mal compreso l'indicazione, ma invece dal basso, raccontato dall'altro, viceversa. Sì, sì, però insomma ti assicuro, e anche Fabrizio e Fabio ti possono dire che insomma, uno o due vignette in una storia sono veramente poche, no? È andata bene, dai. No, no bene, ultra bene, insomma, poi le colorate a te, dopo dalla matita siamo passati a questi magnifici definitivi, no? Qui sono atterrati sulla luna, con la macchina a raso, e ci sono i seleniti, no? Quelli che si vedevano nei film di Méliès, insomma. Eh sì, infatti abbiamo preso, o meglio anche il Bozza, ha deciso di andare, o chiaramente andare a pescare in tutta quella che è la cinematografia di Méliès, che come dicevo prima è considerato, credo, oltre a uno dei padri del cinema, ma anche il padre degli effetti speciali, perché lui faceva tutto in una serra, no? Chiaramente la luce del sole, e la magia proprio di creare delle creature misteriose, dei marchi ingegni, utilizzando solo delle quinte spesso fatte in carta, alternate, o animali come dei polipi giganti, mossi con delle funi. Lui voleva trasmettere la magia delle storie che aveva in testa, lui voleva trasmettere un qualcosa anche che non si era mai visto, i pionieri. Col fumetto possiamo fare tutto? Esattamente, volevo proprio arrivare qui. Il fumetto è anche simile a quel tipo di narrazione che c'era Méliès, perché anche tanti scenografi sono diventati disegnatore di fumetti, perché devi fare dei set, devi ambientare, insomma, è una cosa che è molto connessa, come tanti tipi di arte narrativa che dicevi giustamente te, come l'illustrazione o come altri tipi di arte narrativa. Però il lavoro di Méliès è proprio, come posso dire, molto fumettoso, no? E quindi, no, io sono molto contento di quella cosa che Paolo lo sa. Anche io, anche io. E mi raggancio sempre a Paolo per ricordare che nel 2018, quindi quanti anni fa? Cinque. Cinque. No, forse era il 17 allora, forse era sei anni fa, non mi ricordo più. Paolo aveva già disegnato da Ampir una doppia splash page su un volume specialissimo ambientato proprio a Lucca, che a Lucca abbiamo lanciato, che si chiamava Il Santo venuto dall'Irlanda, dove lui e altri, come li chiama Vietina, i moschettieri? Diciamo sì, i moschettieri dell'arte fantasy, anche se poi si erano ampliati, mi sembrava fossimo sette, otto, una cosa del genere. Sì, sì, nove. Nove e Paolo era, diciamo, il loro capitano, ma tra loro c'era anche Alberto Dallago, cioè c'è sempre, non c'è qui a Lucca, ma insomma c'è e dimostrato dal fatto che anche lui, come Paolo, è collaborato ancora con noi su Dampir. è la sua seconda copertina, perché fa le copertine per i nostri speciali, è uno speciale che ha la copertina di Alberto Dallago e è stato disegnato da Fabrizio Longo. quindi io farei una pausa a Paolo Barbieri. Grazie a tutti. Grazie Paolo. Scusa se ti ho rapito, l'ho rapito, c'è un altro incontro. momento passo, grazie Paolo. Fabrizio, ce l'hai il microfono? Te lo passo, aspetta. Ah, qui ci abbiamo... sì, va bene. Allora, no, se me lo puoi mandare un po' avanti a quello dello speciale, così dopo torno indietro e parlo di quella cosa, chiudo con quello. Ecco, questa è una copertina di Alberto Dallago e dentro c'è una storia tua. Esatto, buonasera a tutti. Scritta da Boselli e disegnata da te. Ghost to Watch, che ci vuoi dire di questa storia? Allora, è una storia che prende lo spunto da una trasmissione della BBC del 1992 andata in onda il 31 ottobre in occasione di Halloween. Da una storia vera. una storia vera perché questa trasmissione pare, pur essendo una fiction, che viene trasmessa e tra virgolette spacciata per una diretta reale in cui si effettuava una ricerca medianica, una caccia ai fantasmi, all'interno di una casa infestata di Londra. C'erano vari collegamenti tra lo studio da cui veniva presentata la trasmissione, gli inviati in questa casa, c'era una parapsicologa, un fonico, un cameraman e la famiglia che era composta da una madre e le due figlie, praticamente vivevano questa situazione con questo fantasma che, se non sbaglio, si chiamava Mr. Pipe perché faceva rumore nei tubi. Sì, è una cosa che scioccò, una trasmissione che realmente, quando andò in onda sulla BBC, divenne scioccante perché era finta, era fiction, ma aveva quell'aspetto di mockumentary, che è una via di mezzo tra la finzione e il documentario, che è mandato in prima serata sulla BBC, scioccò i telespettatori, è diventata una sorta di trasmissione maledetta, che non si può più vedere. Prendendo spunto da questo, Mauro ha ricreato, siccome nella saga di Dumpir ci sono i Ghost Watch, i Ghost Hunters, che sono, c'è Maud Nightingale e poi ci sono Mark, aiutami, insomma i nostri personaggi cacciatori di fantasmi sono. Mark Leavis, ora mi sfugge il nome anche a me. Però c'è il Cagnolone Thor, che è diventato molto vecchio perché la prima volta sono comparsi sul numero 50 o giù di lì e ora sono passati quasi 20 anni, anzi sono passati 20 anni dal numero 50 e quindi il cane se n'è un po' un bel invecchiato, anche se è un cane tosto. E' un cane tosto, eroico, intelligente. E niente, praticamente, no Fabrizio? Questi personaggi vengono coinvolti. La BBC torna a fare una trasmissione, chiamando però gli amici del Dumpir, in che hanno una marcia in più, perché c'è il Dumpir. Però questa trasmissione, come scoprirete quasi subito, è una trasmissione reale, innanzitutto non è una fiction con attori e ricostruzioni. E cominciano a succedere delle cose terrificanti per davvero. Esattamente. E' proprio una storia dell'orrore slow burning, però a un certo punto quando attacca c'è difficoltà perché c'è una famiglia davvero che vive con cose. E poi ci sono vari tipi di orrore. Esatto. Poi fra l'altro è organizzata in una maniera proprio come, quasi come se fosse un giallo. Perché tu ti fai le tue idee durante la lettura per capire. E poi finché non succedono determinate cose non hai modo di verificare. Te che facevi la storia passo passo. Eh sì. E non sapevi dove andavi a parlare. Esattamente. Io per volere di Mauro ho affrontato la storia scoprendola via via che lui mi mandava alle parti di sceneggiatura. E mi chiese di fare questo perché voleva che tutti quanti i personaggi, anche quelli secondari che alle volte ci sono nelle storie di Dampi, quando ci sono i flashback, fossero caratterizzati perché potenziali. Poi non era detto che qualcuno doveva per forza ritornare o no, ma dovevano essere tutte assolutamente sospettabili e credibili. Quindi il motivo per cui io ho scoperto la storia via via che la disegnavo è questo qui. E infatti la tendenza poi è stata proprio questa, perché io non avevo assolutamente idea di chi poteva fare cosa. E io stesso... Chi era responsabile delle atrocità che incominciano a succedere durante la storia. Esatto. Poi sono più di uno i responsabili, scopriamo. E c'è però un vero responsabile, un gran cattivone dietro, che poi ne parlerò dopo quando ci ricollegheremo anche agli albi che abbiamo visto prima, che sono l'edicola adesso e che ci porteranno verso il numero 300. Ma ti volevo chiedere un'altra cosa, visto che abbiamo visto Mauro, no? Prima nel video che ci hai mandato gentilmente, abbiamo visto brevemente anche Maurizio. E io lo so, perché lo sappiamo io e te, che Maurizio non si sa se sarà una storia completa o se... Però sicuramente ha scritto delle pagine che stai disegnando. Sì, esatto. Adesso stai disegnando una storia di Maurizio Colombo. Esatto. Quindi così, con questo, ti puoi dire di aver disegnato sia per Boselli che per Colombo. Cosa che non possono dire in tanti, diciamo. No, 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 infatti... Nella cosa. Mi vuoi raccontare quello che si può, insomma? Sì. C'è una scena iniziale simpatica, no? Sì. Non posso negare, premetto un certo timore iniziale, perché, come è stato la prima volta che ho lavorato su una sceneggiatura di Maurom, ora su una sceneggiatura di Colombo, cercare di riuscire a comprendere quali sono le sue maniere di vedere le immagini attraverso la sua scrittura, dato che ogni sceneggiatore, pur essendoci i canoni, i tagli, i piani, però ha una sua maniera di focalizzare e poi di esprimerla per scritto. Quindi sicuramente c'è, da parte mia, una certa emozione dietro. E c'è una scena iniziale così, un po' simpatica, dove si cerca di collocare le origini del nome, del luogo in cui è abituato, è ambientata la storia. Non so se ti stavi riferendo a quello. Sì, sì. C'è una scenetta simpatica, poi l'hai letta tutta la scena. Sì, sì, sì. Perché l'ho mandata in due tranche. E si vede la capacità di Maurizio di avere in pugno i personaggi che ha inventato con Boselli. Insomma, per esempio Tesla e Kuriak, mi raccontano loro e i miei maestri, io non c'ero all'epoca quando l'hanno inventato, che dovevano essere due personaggi che morivano, finivano in questo libro qui, che sarebbe il libro che si trova anche dentro il cofanetto, dei primi due numeri di Dampir da cui è stato tratto il film. Difatti questo ha una copertina speciale che abbiamo fatto un bel librone per l'uscita del film. Questa è la storia appunto della genesi di Dampir, ma in realtà non è la genesi solo di Dampir, c'è la genesi di Dampir come eroe, come diceva Vincenzo. Un perdente che diventa eroe. Ma la genesi di Dampir come trio di eroi, perché Tesla e Kuriak sono protagonisti della saga esattamente come Dampir. e lui li fa parlare, sono divertenti quando chiacchierano, poi Tesla fa una cosa che non diciamo per non fare troppo spoiler. Però quella cosa lì nello specifico quando l'ho letta ho proprio detto sì, questo è Colombo, è proprio lui. Divertente, vero? Sì, ma poi fra l'altro è esattamente quello che avrebbero fatto già dal primo numero, proprio il loro atteggiamento è sempre quello. È sempre quello. È sempre nuovo il modo in cui te lo mostra, però sono sempre loro, è una fedeltà incredibile, incredibile. Infatti la dura realtà per noi modesti, epigoni sceneggiatori è che non arriveremo mai a quello, perché quello è proprio sangue del loro sangue, insomma. Però ci proviamo. Grazie Fabrizio, un applauso a Fabrizio. Questo è l'albo che ancora per due giorni è in edicola. Poi dopo, scorrendo giù, domani l'altro ci sarà in edicola questo. È una storia doppia. È una storia doppia dove ci sono degli inside jokes nostri, perché voi non lo potete sapere, ma noi in redazione lo sappiamo tutti. Ci sono due personaggi all'inizio della storia disegnata. La prima parte è disegnata da Laurenti, che è un po' più... No, di quell'altra, ma insomma va bene. Quella, sì, precedente, che non mi ricordo neanche più come si chiama. Taliesin, non mi ricordo. Sì, qualcosa con Taliesin. Il secondo è Calderone di Dardo, dopo arriverò. Il ritorno di Taliesin. All'inizio Taliesin l'abbiamo lasciato prima del numero 200, e ora siamo prima del numero 300, no? C'ero già io al lavoro, pensate. Ci sono già passati 100 numeri di Dampier. E passa. L'abbiamo lasciato prigioniero, no? Del maestro Costantin, che è un maestro che poi viene ammazzato. È difficile ricostruire il mondo universo d'Amperiano. Però all'inizio è dove ci sono due personaggi che si attravestono da pitti e si chiamano Spog e Glaucos. Non sono altro che Zampolini e Glaucos, dei nostri colleghi della redazione, insomma. Questo inizio è il gioco che ha disegnato Laurenti nella prima parte. Poi Mauro Laurenti ha dovuto fare una storia importante per Zagor e allora hanno continuato Viotti e Genzianella. Viotti e Genzianella facevano la parte nel passato e Genzianella la parte nel presente. Perché Taliesin è il Dampier del passato. E sia nel passato che nel presente, come dice il titolo della storia successiva che esce fra qualche giorno, il calderone di Dagda, cercano il calderone. Questo calderone che vedete fumante in copertina, in questa copertina di Enneri Voldi, di montaggio. Quello che è dietro è Dagda, che sarebbe anche uno dei nomi dei Tauta, dei Dannan, che sarebbero i dei celtici, che scopriamo in Dampier di essere dei maestri della notte. I maestri della notte sono i vampiri che comandano il mondo e comandano le guerre, come dicevamo prima con Vincenzo. Però Dagda era un maestro della notte illuminato, era vecchio e voleva bene a tutti. C'è anche nella storia del Bartola, dopo Dagda se ne parla anche di quella. Il suo calderone è stato distrutto niente meno che dall'Ancillotto. Nella discesa agli inferi per andare a riconquistarlo contro, si chiama la città oscura, Anon, la città di Black Hannis, ovvero Severa Massima, insomma, è una cosa complicata. Ma sono scesi agli inferi celtici e l'Ancillotto l'ha spaccato. Ma i pezzi di questo calderone sono magici. Quindi ora nel presente con Dampier, Kear, Landraka, quello che vedete protagonista, con Tesla e Kuriak, stanno cercando di capire chi è che dà la caccia ai pezzi del calderone e cosa vuole farne. Perché essendo magici sono pericolosi, diciamo, in qualche maniera, se finiscono nelle mani sbagliate. Mentre Dolly McLean, che è la scrittice, che era scomparsa, che poi è stata salvata, ritrovata, anche lei era finita nell'inferno di Anon, racconta quello che sa di come andò la ricerca di Taliesin dei frammenti del calderone nel passato. Quindi parallelamente vediamo Taliesin che viene liberato dai nostri amici redattori Glauco e Zampolini e poi la caccia al calderone nel passato e nel presente. Queste sono le due storie che sono ora in edicola e questi personaggi e queste tematiche torneranno fino al numero 300 dove niente sarà più come prima. Per quello dicevo che sicuramente la storia di Maurizio che sta disegnando adesso Fabrizio esce quest'anno perché dopo si sconvolgeranno come sempre si fa nei fumetti Bonelli senza grossi drammi però qualcuno morirà e qualcuno sopravviverà. Vi faccio uno spoiler non moriranno Tesla e Kuria che neanche Arlan perché questo non fa parte del però qualcosa succederà quindi le cose come sono prima del 300 vanno pubblicate insomma ecco quindi dopo questa doppia storia che vede questa caccia ai pezzi del calderone magico ci abbiamo anche esatto questa è la copertina del Dampir che forse ancora non ha visto nessuno si chiama Diva Mortale è una diva del cinema nazista che ricompare e a cui Dampir dà la caccia non c'entra niente col calderone però chi legge Dampir sa che c'è un maestro della notte appassionato di cinema anzi ce ne sono due uno era un cineasta che era Musuraka che è morto nel numero 18 lo schermo demoniaco di Maurizio Colombo e Luca Rossi e poi c'è il suo allievo che ce lo siamo inventati insomma io Mauro e Maurizio durante una pizzata a Milano che è invece un fan un fan di cinema perché è un po' annoiato e lui scherza un po' si diverte col cinema mette in difficoltà cerca di mettere in contraposizione tra loro i personaggi però anche qui c'è una sorpresa perché loro danno la caccia a lei che si chiama Gabi Edberg è una finta nell'introduzione di Boselli si spiega un po' anche tutta la situazione del cinema in quegli anni di nazismo in Germania però anche qui c'è una sorpresa e dopo questo albo che è di Falco e di Claudio Falco e Andrea del Campo ci sono qualche albo diciamo come si può chiamare di di Filin e poi intervallato appunto da questo albo di Maurizio anche lì con un piccolo prologo di Andrea del Campo un ottimo prologo di Andrea del Campo a cui faccio i complimenti perché mi è piaciuto davvero tanto dove si vede un personaggio che muore nel primo albo che c'è anche nel film chi è? ti ricordi? devo dirlo dillo 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 è uno spoiler Gorka si rivede Gorka per quello Maurizio ha fatto questo quindi all'inizio si rivede Gorka che nel film è interpretato dal bravissimo Morrissey The Walking Dead il governatore il governatore The Walking Dead e quando Vincenzo alludeva prima a un discorso di doppiaggio anche lui doppiato seppur dal bravissimo Pino Insegno che è uno dei più famosi italiani giusto? è Pino Insegno che lo doppia il suo accento la sua parlata originale dell'attore in inglese è straordinaria è meravigliosa guarda permettimi di dire che ascoltare gli attori prendere vita è stata un'esperienza incredibile e lo dico perché nel mio lavoro io non ho mai avuto una grandissima sensibilità verso l'interpretazione attoriale sono sempre stato più vicino al mondo del frame come si dice in gergo quindi l'effetto speciale il movimento di camera lo stunt il combattimento ma c'è una persona sul set che mi ha insegnato come far sì che un fumetto potesse diventare un essere umano in carne e ossa come trasformare un essere umano che aveva la sua vita in un personaggio di fumetti quella persona è seduta tra di voi ed è il direttore editoriale della Sergio Bonelli editore vi chiedo un applauso per Michele Masic ma c'è Michele o è una carambata è andato via è una carambata così allora approfitterei di questa cosa e farei un applauso invece all'editore che invece quello c'è lo vedo qui è Davide Bonelli e no perché Michele ci trova l'altro direttore perché io sono piano di direttore anche Vincenzo è un direttore Davide Michele e poi abbiamo un altro direttore che si chiama Simone Eroldi ma ho detto prima un discorso dei buoni dei cosi ma è vero o non ho più seguito è vero è vero allora dopo ci arriviamo quando diciamo un'altra cosa scegli tu governi tu fai tu la regia non mi ricordavo più se c'era questa cosa c'è assolutamente se lo vuoi fare con qualche domanda al pubblico sì sì allora tanto vi dico che mentre vado avanti e vi dico queste cose se qualcuno può vuole intervenire può interrompere e chiedere una cosa tipo ma perché ci state annoiando no ma perché Bartolini non ha ancora detto niente ora facciamo parla anche Fabio allora perché qui Bartolini Bartolini è uscito con quest'albo che ho scritto io no ieri elegantemente stava facendo degli sketch Fabio e uno che lo intervistava gli ha chiesto ma com'è no lavorare con Giuse Fredi no e io ho detto l'ho fermato subito no Giuse Fredi è cattivo no e lui con molta eleganza ha detto non è cattivo è esigente che mi fa passare bene perché capito lo faccio per il bene del fumetto no in realtà lo faccio per il bene per il bene della storia questa storia che abbiamo fatto insieme con una lunga gestazione ambientata anche tra l'altro qui nelle vicinanze che abbiamo presentato a Luca Collezionando che è un'emanazione della fiera primaverile che viene fatta sempre da Luca Comics dove c'era la mostra dove c'era la musica perché si chiama Radio Vampira e quindi la storia è scandita anche da pezzi musicali da un DJ che poi insomma ci sono tutte delle storie dietro ma perché si è uscita questa storia ad aprile ad aprile la vediamo adesso e te sei qui perché da poco Dampir è sulla piattaforma Bonelli Digital Classic no quindi chi possiede l'abbonamento come una piattaforma come Sky o Netflix o Compagnia Bella chi ha il Bonelli Digital Classic può vedere può leggere tutti gli albi di Dampir fino a sei mesi fa quindi è appena uscita fresca fresca Radio Vampira mia e di Fabio Bartolini su Bonelli Digital Classic quindi è la nuova uscita mentre qua siamo sei mesi avanti sul Calderone là eravamo alla radio è ambientata qui vicino mi vuoi dire qualcosa cioè vuoi essere meno elegante di ieri e dirmi no ma hai rotto le scatole vado via butti il microfono no 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 assolutamente assolutamente che cosa ti vuoi raccontare allora raccontami quello e poi cosa stai facendo ora raccontami un po' come è andata quella storia lì e poi su cosa stai lavorando adesso allora come è andata è andata e ci ho messo un sacco di tempo per farla e lui sta giustamente arrabbiato giustamente eravamo usciti con eleganza non ci torniamo sopra vabbè ci ho messo un sacco di tempo è stata penso di aver fatto un buon lavoro penso no sicuramente hai fatto un buon lavoro sulla velocità sai non ci siamo però sulla qualità è un lavoro straordinario certificato qualcuno ha detto anche una bella storia e se qualcuno l'ha detto è merito tuo che hai insomma sistemato le mie magagne di sceneggiatore io cerco sempre di sistemare le magagne che ti faccio no no non sistemare le magagne di migliorare il no no la sceneggiatura non il senso ora noi ci stiamo scherzando anche se sono già buoni io ci stiamo scherzando dovete sapere che i disegnatori nostri lavorano a forse mi devo alzare la borsa ah ok ok urla ah ok i disegnatori nostri guadagnano a pagina realizzata quindi il lavoro che fa Fabio o che fa anche Fabrizio no che è un lavoro che noi diciamo dai sbrigati perché noi ovviamente abbiamo esigenze redazionali di pubblicazione loro non lo fanno per farci un dispetto a noi ma lo fanno perché per cesellare per far sì che il lavoro sia fatto meglio possibile è incomiabile a discapito del loro portafoglio perché meno tavole fanno e meno si guadagna e meno si guadagna quindi non gli possiamo dire niente a uno che ricerca diciamo sì ora poi te c'è tutte delle cose strane c'è un personaggio in questa cosa qui in questa storia che è ripreso da mio padre no e lui per fare la sfumatura dei capelli di mio padre che è pelato rasato ma c'è una sfumatura dei capelli ha usato ha ripreso l'intonaco sì una foto di un intonaco praticamente togliendo i grigi ci ha lasciato proprio i pallini dell'intonaco del muro insomma del minimo indispensabile e ce l'ho attaccato solo digitalmente insomma l'intonacato la testa di mio padre insomma però è una cosa digitalmente cesellata che è quasi difficile da capire delle volte per non parlare delle armi dei controbastioni che abbiamo qui esatto le divise le divise è stato un lavoro un po' lungo di ricerca sono stato anche facilitato in queste scene dall'esercito svedese che apreva proprio una divisa proprio la guerra è trent'anni 1600 tanto per dire come è semplice ma poi è semplice perché la storia è raccontata però le cose che si vedono sono inoppugnabili spero che siano inoppugnabili ecco qui si vede l'esercito svedese a terra ci sono gli imperiali se guardate hanno tutti apiti uno diverso dall'altro proprio perché non avevano esercito proprio regolare con delle divise erano tutti mercenari diciamo o quelli che riuscivano a raccattare per mandagli in battaglia c'è anche nella storia reale e nelle divise reali c'è anche un personaggio di fantasia che poi sarebbe quel cavaliere nero esatto sbarta ridare che è svedese e c'è motivo per cui è nero mascherato e anche lì quanto ci abbiamo messo ne abbiamo parlato della foggia del materiale di questo cavaliere nero che alla fine è cuoio cuoio nero si cuoio cuoio ha una struttura anche troppo moderna forse vede via si ritira dal mercato si cambia tutto no 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 però si ricalmiano tutte insomma va bene invece su cosa stai lavorando adesso adesso sto lavorando su una storia di Mauro Boselli che si può dire il titolo approvisorio il titolo approvisorio si può dire perché la protagonista è quella il titolo provvisorio è Mary Shelley Mary Shelley è un personaggio realmente esistito che è la creatrice si dice si vede proprio in una storia di Dampir che si chiama la maledizione di Varney no è il numero 52 se non sbaglio di Boselli Andreucci si vede la scommessa di Villa di Odati Villa di Odati in un'estate piovosa pioveva come qui però era d'estate in Svizzera sul lago di Ginevra se non sbaglio lo scrittore Lord Byron e i suoi amici Percy Shelley e il dottor Polidori si trovavano e erano annoiati e volevano scrivere dei racconti di fantasmi li chiamavano allora perché non esistevano tanti personaggi dell'orrore solo che Percy Shelley che poi è morto qui vicino a Viareggio e Byron l'ha salvato cioè l'ha salvato ha tratto il cadavere morto qui a Viareggio in salvo aveva una moglie che si chiamava Mary Shelley e la scommessa su chi scriveva il miglior racconto di paura di fantasmi era tra Lord Byron e Percy Shelley Percy che era già un femminista il poeta Percy Shelley disse ma guarda mia moglie è molto brava in queste cose io non lo so mettiamo anche lei il dottor Polidori che era il dottore di Byron ma anche l'allievo trattato malissimo da Byron disse come fate scrivere una donna non mi fate scrivere anche me tanto non sei capace no voglio scrivere anch'io allora che successe che da questa scommessa di Villa Diodati uscirono Frankenstein perché Mary Shelley scrisse il racconto di Frankenstein probabilmente ispirandosi a Lord Byron come il dottor Frankenstein cioè uno che crea la creatura era Polidori mentre nella saga di Dampir si ispira a Draca il padre di Dampir e a Varne il vampiro come creatura mentre Polidori scrive il vampiro che è il primo racconto del vampiro come lo intendiamo oggi come il buell'uomo elegante che dopo riprende Bram Stoker per far Dracula quindi i due più bistrattati cioè la donna Mary Shelley che ha scritto il più grande romanzo quasi ha vinto lei la scommessa e lei Mary Shelley che si è già vista appunto in questa bellissima storia di Boselli Andreucci che finisce a Napoli e comincia in Svizzera a Villa di Odati e finisce a Napoli e si rivede in questa storia qual è l'ambientazione delle prime pagine che stai facendo? Allora la prima ambientazione è che c'è Mary che in un momento di disperazione dato che è appena diventata vedova incontra Draca Draca il padre di Arlan che da sempre nella saga di Dampire è affascinato da poeti scrittori e cerca di aiutarli dato la sua strana umanità o passione per il genere umano perché lui è un arcivampiro non è un umano e praticamente sta la vede disperata e cerca di tirarla su e che fa? La porta con la mente nella Venezia del Seicento la porta le ricrea grazie ai suoi poteri di maestro delle tenebre una festa di carnevale una festa di carnevale una festa di carnevale nel Seicento a Venezia e c'è tutta una storia dietro perché è una storia che Draca ha già vissuto però gliela sta facendoli vivere a lei praticamente gliela racconta con una realtà aumentata praticamente invece di farglielo vedere o raccontarle o fargliaggi un racconto gliela fa vivere gliela fa vivere e niente insomma sei sempre all'inizio però sei sempre all'inizio anche se tavole meravigliose ricostruzioni di costumi a Venezia e coso Alex Dante mi fa vedere che sono le mancatece allora io passerei la parola a Vincenzo per quella sorpresa che dicevamo prima e poi concludo se non ci sono domande con altre piccole chicche di qui al Trecento che non mi ricordo ma mi ricorderò ma io partirei proprio da questo guarda facciamo questo piccolo dono questo cadeau arrivi alla fine per per festeggiare ragione diciamo per le persone che trovano le domande più interessanti ci sono domande? eccola vado io vado io no no vado io ma siamo troppo trattati troppo bene allora io brevemente e volevo sapere una cosa appunto abbiamo parlato del lancio l'anno scorso di Dampir con una grande presentazione ma anche del Bonelli Cinematic Universe quindi volevo capire un po' lo stato di questo universo e anche dello stesso Dampir ma forse è questa poi l'antecipazione che ci volete fare ora cioè nel senso ci sarà un seguito a quello che è poi stato il film dell'anno scorso e aggiungo anche proprio al produttore sei rimasto soddisfatto al di là del lato artistico del risultato commerciale allora mi sa che Michele ne parlerà anche in otto di varie cose si non posso assolutamente prendere il posto del nostro direttore e a Michele ho domandato ed è molto più bravo di me la comunicazione di quali sono i prossimi progetti in termini di serie televisiva e che vedrete presto quello quello che posso dirti è adesso hai la possibilità di vedere Dampir sul in HD in anzi in 4K magari puoi cogliere quello che pochi sui forum hanno colto e sono i legami con gli altri personaggi che sono all'interno del film che è una bella sfida secondo me che potreste raccogliere e provare a raccontare se siamo soddisfatti del risultato commerciale devo dire che io faccio questo lavoro da molti anni da prima di entrare in Bonelli il mio lavoro è tradurre un'idea in questo caso un fumetto in una serie tv in un film in un documentario e mai nella mia vita una delle mie produzioni era stata oggetto di un contratto internazionale fino a Dampir ricordo distintamente quando ci è arrivata la notizia che Sony Picture la proprietaria di Columbia Tristar una delle cinque major aveva scelto Dampir e aveva deciso di acquistarlo per il proprio listino internazionale entrare nel listino di una major è qualcosa che non capita a nessun film italiano questo è un motivo d'orgoglio ed è uno dei motivi per cui ringrazio il signor D che è qui che ci ha permesso che sarebbe Davide Bonelli ancora ecco diciamo così che ci ha permesso di realizzare questo sogno ci sono altre domande? una alla volta però perché se no non ci si fa no scherzo allora siamo un posto così vi dico che più che le storie che vedrete da qui al 300 vi dico che torneranno Stefano Andreucci sulle pagine di Dampir tornerà Michele Rubini tornerà appunto Maurizio Colombo come abbiamo detto prima e tornerà penso anche Alessandro Bocchi quindi stiamo preparando proprio anche a livello artistico un riavvicinamento agli origini di Dampir per festeggiare come si deve il 300 nel quale sarà abbastanza incentrato su uno dei cattivi principali della saga che chi ha letto lo speciale capirà chi è ecco così si ricollega anche a quello che abbiamo detto prima insomma ti aspettavi che c'era in fondo lo speciale? No no quindi senza spoiler leggetevi lo speciale e capirete chi tornerà nel numero 300 ecco allora io direi che posso chiedere solo una cosa siccome Dampir da sempre ha flirtato con la letteratura di genere la letteratura horror dal gotico al pulp con il cinema anche di genere vi dicendo e con le leggende e con i miti il folklore il folklore insomma è una pietra fondante del personaggio con un lavoro molto erudito dietro tra l'altro è appassionante mi chiedevo in prospettiva in futuro per forza questo anno o comunque in futuro ci sono che ne so cosa vedremo magari di legato magari a miti o appunto a collegamenti con la letteratura ci sarà qualcosa c'è qualcosa che si può dire magari è pieno da Mary Shelley appunto che torna nella storia di Fabio nella storia di Fabrizio invece torna una terribile polizia simile al Gestapo però è in Albania che si chiama Sigurimi e poi ci sarà nella speciale l'anno prossimo credo un mito etrusco tra la bassa Toscana e il Lazio dove tornerà il maestro della notte la maestra della notte Vant che era il cattivo della storia a cui ha partecipato anche Paolo Barbieri il santo nusore d'Irlanda e anche lì però ricomparirà anche lì un certo cattivo insomma che alleggia in questi discorsi che abbiamo fatto e poi c'è di tutto c'è delle guerre sanguinose in Africa ci sono fammi pensare che ci sono tutti i miti celtici sì sì beh nella saga di Dagda ci sono nella saga del Calderone ci sarà la terza puntata di una trilogia di Gregorio e Stassi che è una trilogia spagnola che abbiamo visti a Barcellona non mi ricordo dove ora la terza parte è sui Pirenei no forse i Pirenei l'abbiamo già fatto non mi ricordo più insomma comunque ci sarà la terza parte di questa trilogia che stava per uscire ci sarà una storia di Diego Caglielli e Fabrizio Russo che vede il ritorno più che di un personaggio di un'ambientazione che è High Moon High Moon anzi High Moon è il film Mezzogiorno di Fuoco che era un villaggio una ghost town però di giorni nostri abitata da vampiri che si era inventato Mignacco una storia con Andreucci 23 anni fa insomma è tantissimo quindi è tutto collegato sono tutti ritorni però sono anche storie fruibili anche te Fabio avevi ridisegnato D'Agda no disegnato proprio te no ma c'era nella storia era un inserto piccolo di Maio e poi c'era c'era anche Taglesin e c'era la leggenda qui che da il monte che dividono Luca e Pisa c'era un passaggio segreto che va dentro Pisa è una cosa che si dice noi abbiamo c'è un cartello sei un nostro fan c'è scritto viva Dampir ah ok ha scritto fine tempo in realtà ok va bene grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti